Buonasera a tutti, antivigilia del voto, domani ultimo giorno di propaganda elettorale, e poi il silenzio prima di andare alle urne ed esprimere il proprio parere. Margherita Di Pumpo, candidata sindaco del centrodestra, scesa in campo sicuramente convinta di quello che faceva. Perché votarla? Semplicemente perché è un volto nuovo, è sempre stato detto le solite facce, è un volto competente, è un volto che parla alle persone, parla al popolo indistintamente, e una persona che è capace di cogliere le provocazioni che vengono dal mondo esterno, le sollecitazioni del territorio e farne non un problema ma una risorsa. Oggi Torre Maggiore ha bisogno di chi sa interpretare i bisogni, li sa leggere e soprattutto di chi sa dare una risposta. Io ci proverò. E perché votare ancora Margherita Di Pumpo? Perché Margherita Di Pumpo è libera, indipendente e soprattutto disinteressata.